Un nuovo progetto è stato sottoposto alla giunta di Regione Lombardia, ma la centrale idroelettrica Crotta d'Adda non si farà. Una valutazione negativa in ordine alla compatibilità ambientale, quella del Ministero dell'Ambiente. L'Adda è un fiume importante, però è un piccolo fiume, 300 km, poco più. È un fiume che ha un carattere torrentizio molto particolare, riteniamo che non debba essere manomesso assolutamente. Deve essere un fiume per la natura, per i pescatori, magari per i bagnanti, un fiume che deve essere anche risanato perché ha ancora delle emissioni inquinanti. Però l'idea di bacinizzare anche soltanto su una piccola porzione il fiume per creare qualcosa di artificiale come una centrale idroelettrica ci trova assolutamente contrari. Già un precedente progetto era stato archiviato nel 2018 a seguito delle criticità ambientali rilevate. È un fondo che di giorno in giorno cambia. È proprio la caratteristica dell'Adda che impone di non manometterlo assolutamente. Qui c'è un rischio legato alla fragilità stessa del fiume e poi è un fiume troppo stretto. Il corso è anche molto lento perché è quasi tutto in pianura. Allora possiamo immaginare dei grandi sbarramenti delle produzioni idroelettriche in quel caso. Non certo in un piccolo fiume come l'Adda che deve avere una sua vocazione turistica legata all'agricoltura, legata al mondo dei pescatori anche e comunque di chi fruisce sull'ambiente con le ciclabili ma non con questi impianti industriali. Grazie. Grazie. Grazie.